Andrea Dejana, 30 anni da Carbonia, è qua sotto i portici di Via Roma a protestare contro la riforma della sanità. Quali sono i danni ulteriori che questa riforma ti importerà a te, comunque che sei un cittadino sardo, tra l'altro disabile? Penso che alle persone disabili causeranno grossi problemi proprio per il fatto che stanno accettando tutti i servizi a Cagliari. Quindi nel momento in cui ci servizi a Cagliari, come fa una persona che è in gravi difficoltà fisiche a potersi muovere per poter avere delle visite? Tu fino a oggi potevi avere e fare tutte le visite che volevi e che ti servivano a Carbonia. Qual è il futuro? Il futuro sarà che sarò impossibilitato di avere delle visite nella mia città. Poi bisogna anche tenere presente che Carbonia è una zona strategica per quanto riguarda la sanità perché attira tutto l'internet. Quindi ti toccherà fare molti chilometri e dovrai essere comunque aiutato anche negli spostamenti? Sì, per me è un grosso problema.